I rapporti si sono qua evidentemente siamo parlati, siamo chiariti e quindi si è trovato l'accordo, è passato, è passato, quello che conta l'ho detto prima è far bene e quindi si va forte, c'è stato chiarimento e la volontà comune di proseguire, proseguire appunto cercando di fare il meglio possibile per il bene della squadra. Il terzo atto di Attilio Tesser sulla palchina della Triestina inizia così, alle spalle le polemiche per l'esonero nella scorsa stagione, il mister Friulano deve mettersi all'opera su una delle sfide più difficili della sua carriera, con al fianco il nuovo direttore sportivo, l'ex Pescara Daniele Dellicarri, l'obiettivo è quello di salvare la Triestina, fanalino di coda con soli sei punti in classifica. Il mio punto in cui mi baso sempre è il rapporto dentro allo spogliatoio, perché prima di andare sul campo è da lì, è da lì che nasce quell'unità di intenti che tutti devono rinunciare un po' al proprio io e metterlo tutti sul noi, noi, noi squadra, noi Triestina, noi un dovere verso la proprietà che ci investe su di noi e soprattutto verso la maglia e verso i nostri tifosi che meritano il rispetto, dobbiamo dare sempre il massimo, dare tutto quello che abbiamo dentro. Come affrontare allora la più grave malattia della squadra? Le sole dieci reti segnate in sedici giornate, peggior attacco del girone A della C. Il gol va costruito da una squadra, non solo dagli attaccanti, il gol va riempito all'area di rigore, va riempito con i centrocampisti, che è una cosa che dentro il mio sistema di gioco, se gioco con quello lì base, deve essere riempito. Io non penso che non ci siano giocatori buoni, poi c'è un momento in cui ti andrà tutto per bene e vai a fare gol. Infine il messaggio a una tifoseria che non ha mai smesso di amarlo. Ma non ho dubbi che i tifosi torneranno a darci la mano, starà a noi portarli subito dalla parte nostra, da questo aspetto, sta a noi dare il segnale, dare il segnale che ci crediamo, dare il segnale di serietà, dare il segnale di professionalità, perché ai ragazzi chiedo professionalità, a me stesso chiedo professionalità, pensare alle cose veramente nel miglior di modi e che i giocatori diano veramente tutto. Parlo sempre di maglia, ma perché è una cosa non da tifosi, è una cosa vera, che ci credo dentro ed è quello che dobbiamo fare.